Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Ciao ragazzi, ben ritrovati. È cominciato stamattina il terzo giorno di ritiro in Austria del Torino che svolgerà questa prima parte di preparazione proprio in Austria. Abbiamo visto anche testimoniate dai canali ufficiali dei social network della società le immagini, i video del lavoro che Juric e la Rosa stanno portando avanti in questo ritiro estivo. Abbiamo visto che comunque nella lista dei giocatori a disposizione del mister ci sono tantissimi esuberi, gente che non rienta assolutamente nei piani oltre che una quantità industriale di giovani che chiaramente non faranno parte della Rosa per la stagione 2022-2023. Questo per dire che con il mercato non siamo in alto mare ma quasi la preoccupazione non è tanto che si sia ancora fatto poco o nulla sia in entrata che in uscita quanto che vuoi per le tempistiche stringenti, visto che praticamente fra un mese siamo in campo per giocare la prima di campionato, vuoi perché nell'ultima settimana pare non si sia andati avanti per alcuna trattativa ecco, giustamente sorgono delle preoccupazioni. A proposito di questo va detto che nella giornata di ieri comunque si è capito che in questa settimana uno barra due acquisti dovrebbero aggregarsi al ritiro. Uno è italiano perché abbiamo visto che Corriere Granata ha postato una bandierina italiana con la clessidra quindi significa che siamo ai dettagli per questo calciatore e poi vedremo chi è, un'idea forse ce la possiamo fare, ma un altro barra due potrebbero avere delle accelerate a livello di trattativa nei prossimi giorni e quindi arrivare nel limite del possibile a disposizione di Juric in tempi abbastanza stringenti per quanto stringenti possano dirsi tempistiche che hanno portato comunque il Toro a cominciare una preparazione fisica che è una parte molto molto delicata per affrontare la nuova stagione con una rosa largamente incompleta. Quali potrebbero essere questi giocatori? L'idea che mi sono fatto io è che l'italiano, e aggiungo, finalmente possa essere Giulio Maggiore un giocatore che io per il Toro caldeggio da tempo, chi mi segue da tempo da un po' di più lo sa era un nome che avevo già fatto nella scorsa stagione secondo me è un profilo che si adatta molto bene a quelle che sono le esigenze del Toro a centrocampo che tra le altre cose è vero che potenzialmente Juric sta già lavorando con la coppia titolare del prossimo anno quindi quella composta da Ricci e Lukic ma serve un primo cambio potenzialmente titolare cosa che noi al momento non abbiamo perché i primi nomi dietro Lukic e Ricci sono Segre, Cone, Adopo vogliamo metterci anche Linetti ma sappiamo che sono tutti giocatori o comunque la maggior parte di loro con le valigie in mano l'idea che mi sono fatto io quindi è che l'italiano possa essere maggiore e in questo caso sarei molto soddisfatto soprattutto se poi le cifre della trattativa sono quelle che si leggono in queste ore ovvero titolo definitivo con i giocatori che firmerebbe un quadriennale a 800.000 euro e lo Spezia ce lo darebbe per 5 milioni di euro al netto delle eventuali contropartite che pare poi alla fine non verranno inserite proprio perché Linetti sembrerebbe aver rifiutato la destinazione quindi un maggiore 5 milioni sarebbe un affarone di mercato e succedesse una cosa del genere tanto di cappello alla società poi qualcos'altro io però me lo aspetto è evidente dove il toro abbia le carenze peggiori ovvero a tre quarti dove il roster è totalmente sguarnito se vogliamo parlare di gente potenzialmente arruolabile per il prossimo anno per esempio è chiaro che oggi abbiamo Sec, c'è Radonic spero che possa mettersi in evidenza già da questi primi giorni volendo c'è anche Simone Verdi ma vuoi o non vuoi sono tutti calciatori che o sono da valutare o appunto il toro cercherà di piazzare mancano sicuramente i due titolari del prossimo anno e allora siccome io penso che si cercherà di fare di tutto per far tornare Pratt che andrà a quel punto a occupare il primo slot da tre quartista sul centro-destra il secondo nome per me potrebbe verosimilmente essere quello di Lorientel anche perché andando per esclusione di Gio Pedro non si è più parlato e comunque tatticamente Gio Pedro va anche incasellato in maniera particolare Luis Enrique è tramontato direi ormai definitivamente altri nomi non si sono mai scaldati mentre invece sappiamo che con il Lorient c'è una trattativa abbastanza serrata e ballano tra i 500 mila euro un milione il toro vuole investire tanto su questo ragazzo classe 98 di cui si parla un gran bene e si dice che comunque alla fine si arriverà a definire l'operazione sulla base di 8-9 milioni di euro quindi è un acquisto che non va assolutamente sbagliato e speriamo che chi lo ha ponderato, pensato e chi ha insistito per portare avanti questa trattativa fino, speriamo, alla fine alla sua definizione positiva sappia quello che sta facendo perché Dio non voglia, come ho scritto ieri su Twitter che sbagli la presa ecco, magari portandoti a casa un ragazzo potenzialmente buono che per mille motivi potrebbe non ingranare perché c'è anche questa possibilità che noi speriamo non avvenga ma non possiamo escluderla a priori poi ci sarebbe veramente da mangiarsi le mani perché sarebbe l'ennesima scusa per dire quando spendiamo di più non siamo in grado di acquistare quindi è chiaro che un'operazione del genere ti copre perché poi anche a seconda del contratto che gli fai è una cifra, quella 8-9 milioni di euro che puoi andare tranquillamente a risistemare nei prossimi anni però chiaramente non possiamo non considerare anche l'aspetto tecnico secondo me se il Tor decide di mettere così tanti soldi su questo ragazzo che a quel punto andrebbe a occupare la slot di centro-sinistra se giocarsi un posto titolare con Radonic significa uno che ci crede due che magari anche Juric e il suo staffa hanno dato dei feedback positivi e soprattutto tre che avendo soltanto 23 anni forse ne ha compiuti 24 comunque siamo lì quindi si possa fare del lavoro su questo ragazzo in modo tale che magari fra due o tre anni hai un giocatore completo da poter ripiazzare sul mercato e che nel frattempo magari con te ha fatto bene e quindi ti ha anche aiutato appunto come dicevo dal punto di vista sportivo ancora due considerazioni sulla questione Bremer ma in questi giorni ne abbiamo sentite veramente di tutti i colori cioè nel senso io credo che la situazione sia molto più semplice di quella di come la si vuole fare Bremer probabilmente è imparolato con l'Inter Marotta lo segue da tempo ha già trovato la chiave, la quadra con il procuratore per quanto concerne contratto, ingaggio e quindi sta mandando avanti l'agente di Bremer a provare a trattare con Cairo ad abbassare la cifra Cairo alla presentazione dei palinsesti di Lasetta è stato chiaro io ho promesso a Bremer che l'avrei ceduto al fronte di un'offerta che ritengo congrua andrà sicuramente in una squadra di grande livello e poi ha aggiunto certo che se sento squadre se sento l'Inter che chiede 70 milioni per Skriniar secondo me le cifre offerte fino ad oggi per Bremer non sono ancora accettabili a me viene da ridere perché delle volte leggo dei commenti sembra che la società debba giustificarsi per una colpa che non ha ovvero quella di voler guadagnare il più possibile dalla cessione del suo asset sportivo più importante e calciomercato è anche un gioco delle parti se io voglio prendere ipotizzo 40 per un mio giocatore è chiaro che subito te ne chiederò 50 e tu partirai magari da 20, da 25 poi ci si viene incontro e si definisce il tutto cercando di rimanere soddisfatti da entrambe le parti anzi da tutte e tre le parti perché poi c'è anche il calciatore che deve insomma trarre il massimo agente a corredo quindi io non mi stupirei se già nelle prossime ore l'Inter definisse per Bremer a prescindere da Skriniar sanno che tanto comunque Skriniar lo cederanno ma se l'Inter dovesse tergiversare anche qua non mi stupirei di vedere un'altra società che si inserisce sul brasiliano e a maggior ragione potrebbe essere la Juventus che proprio in queste ore sta definendo la cessione di De Ligt al Bayern Monaco posto che la Juve secondo me dovrà prendere due difensori perché se cede anche De Ligt rimane con Bonucci, Rugani e Gatti quindi ne avrà bisogno di due per affrontare tre competizioni uno potrebbe benissimo essere Bremer e a quel punto l'Inter sarà obbligata a rilanciare fino a che non vedo nero su bianco non escludo neanche che ci possa essere un'ulteriore interferenza insomma il giocatore è disponibile poi aspetta l'Inter certo ma non potrà aspettare in eterno anche perché come dicevo prima fra un mese comincia il campionato però ecco invito tutti a non stare lì a fare tante congetture quando Bremer andrà in quella che sarà la sua nuova squadra Inter, Juve o Kipper S sarà soltanto perché tale società ha offerto le condizioni migliori al Torino e ha soddisfatto nel limite del possibile Cairo e come dicevo qualche giorno fa io per questa volta farei anche uno strappo alla regola un'eccezione e accetterei contropartite per abbassare la parte cash il Toro ha una rosa risicata non numericamente ma a livello di scelte e quindi se l'Inter non ti può dare 40 cash ma te ne dà 30 e ti metti dentro un casa dei io ve lo dico sinceramente accetterei accetterei anche con la recompra a loro favore la si mette a una cifra alta se il giocatore fa bene 10, 15, 20 milioni se all'Inter va bene così bene altrimenti dovranno alzare la parte cash ecco questo per dire che tutte le parti in casa stanno cercando di trovare la quadra e che la situazione Bremer non sia una scuda per la società dal non far mercato in entrata perché tu è vero che non sai a quanto lo venderai ma sai che lo venderai che quindi incasserai non adesso perché al di là di dove andrà il giocatore si trasferirà in prestito con obbligo di riscatto e il prestito può essere oneroso ma non tanto oneroso però tu sai che quei soldi li prenderai e quindi puoi già cominciare ad anticipare delle spese ciò che sappiamo anche da quello che mi e ci è stato detto in separata sede è che la cifra complessiva per la quale verrà venduto Bremer definirà buona parte di questa campagna acquisti quindi vedete che è importante venderlo bene proprio per questo poi se vogliamo fare invece del disfattismo che tanto fa tutto schifo che è ok ma non credo sia la maniera più giusta per affrontare la questione questo è quanto volevo dirvi oggi quindi vi chiedo ovviamente di dirmi la vostra qua sotto nei commenti di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto di lasciare un like al video e attivare la campagna di aggiornamenti ci vediamo molto presto e sempre forza Toro